In occasione del 17 maggio, festa contro l'omofobia e la transfobia, 15 giorni di manifestazioni per dire che siamo tutti uguali. Un maggio importante per Ravenna, un maggio dedicato a una campagna, lo stesso amore e gli stessi diritti. Cosa succederà in questo mese nella nostra città? Il 17 maggio è la giornata mondiale contro l'omofobia e la transfobia, perché il 17 maggio del 1990 l'omosessualità è stata rimossa dalle malattie mentali. Come ogni anno, organizziamo una serie di iniziative contro l'omofobia e la transfobia. Quest'anno, grazie alla collaborazione con la Casa delle Donne, l'Arci, l'UAR, l'UDI, Femminile e Maschile Plurale e altre associazioni, abbiamo organizzato addirittura 15 giorni di attività. In particolare ci sono delle proiezioni di film, quella di giovedì prossimo per esempio, ci chiamano diversi, è particolarmente importante perché mette in mostra come i pregiudizi e gli stereotipi influenzano le vite delle persone omosessuali e transessuali in Italia. Ma soprattutto il 17 maggio ci sarà la tavolata d'uguaglianza in Piazza dell'Aquila a Ravenna, si chiama Piazza 20 Settembre però è detta Piazza dell'Aquila. E saremo lì a tavola, porteremo, ciascuno porterà del cibo da condividere con le altre persone e oltre a condividere il cibo condivideremo le idee sui diritti. È un momento proprio, uno spazio di discussione e di diffusione di queste idee. Per colmare almeno simbolicamente un vuoto normativo che ovviamente pesa su molte cittadine e cittadini italiani, cosa succederà il 17 maggio all'interno di una serie di iniziative già molto ricche? Allora, domenica 17 maggio in Piazza dell'Aquila ci sarà una grande festa che si chiama Tavolata d'uguaglianza. e invitiamo tutti e tutte a partecipare, ci sederemo tutti quanti a tavola per pranzare insieme, condivideremo il pranzo della domenica e sarà un'occasione per noi per parlare di diritti civili, di cittadinanza europea. In modo particolare sarà l'occasione per partire, lanciare una petizione, una raccolta firme che abbiamo pensato di avviare, di presentare al Comune di Ravenna. Nella petizione firme chiediamo al Comune di Ravenna di trascrivere nei registri di Stato civile i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso. Perché? Perché sono matrimoni reali, sono matrimoni esistenti, riconosciuti in nove paesi d'Europa in quanto matrimoni e riconosciuti in tantissimi altri paesi d'Europa in quanto unioni civili regolamentate da patti che ogni Stato ha appunto provveduto a regolamentare. L'Italia è uno dei pochissimi paesi insieme a Polonia, Grecia e Irlanda, la Grecia poi comunque ci sta lavorando che è ancora molto molto indietro, che presenta un vuoto normativo in questo campo enorme che è assolutamente da colmare, proprio perché la vita dei cittadini e delle cittadine nel frattempo si consuma e si consuma senza diritti. Esistono delle normative sovranazionali che consentono la trascrizione dei matrimoni e noi questo chiediamo al Comune di Ravenna. Siamo perfettamente consapevoli che la trascrizione è una trascrizione simbolica ma pensiamo anche che il cambio di cultura, un'evoluzione, un passaggio culturale sedimenta le proprie radici nel simbolico. Per firmare, si può raggiungere il 17 maggio ma non solo? No, allora noi cominceremo il 17 maggio, saremo tutto il giorno in Piazza dell'Aquila a raccogliere firme e poi saremo presenti in tantissime occasioni, negli eventi, in tutte le attività che ci saranno a Ravenna nel mese di maggio, nel mese di giugno e raccoglieremo firme, faremo dei banchetti particolari in giro per la città, si potrà firmare anche qui alla Casa delle Donne negli orari di apertura, al DOC 61 in Darsena e anche al Caffè Letterario Anno dei Moduli. La petizione, la firma, l'adesione alla cittadinanza in realtà è un'altra tappa di un percorso iniziato il 5 luglio proprio nella sala preconsigliare del municipio di Ravenna. Sì, noi non ci aspettavamo all'inizio di questa avventura che sarebbe poi andata in questo modo però dopo che siamo tornati, 5 luglio, poi dopo ci siamo sposate in Portogallo con 40 testimoni dall'Italia e poi quando siamo tornati abbiamo avuto il problema di cosa farcene di questo certificato che per noi è un certificato importante perché segna una tappa della nostra vita ma per il nostro paese non ha alcun significato. Abbiamo pensato di non metterla su un piano privato, personale quanto piuttosto di continuare in questa collettività, in una comunità che partecipa a una tappa importante di civiltà e di democrazia del nostro paese. Non è una questione privata ma è una questione pubblica di tutti. Per questo abbiamo bisogno di stare tutti insieme. Grazie.